un saluto guardiani bentornati in questo nuovo video un video nuovo una serie nuova che vediamo un po come va vi riporto gli oggetti che vende Xur nel fine settimana almeno questo lo faccio vediamo i prossimi non ho mai fatto perché fondamentalmente ha una linea che mi permette di caricare un video in una nottata quindi non aveva senso fare un video su Xur relativamente lungo per caricarlo poi dopo che ne so al sabato o alla domenica però se mi muovo ho pensato e mi è stato suggerito se mi muovo se mi sbrigo intanto avete visto la strada si trova sull'attollo ma riesco a fare un video breve caricarlo più velocemente darvi le nozioni più più sintetiche possibili ed essenziali i miei consigli su quello che vende la gente dei nove partiamo subito nessun piano di riserva guanti lunghi per il titano aumenta la velocità di ricarica di tutte le armi speciali poi aumenta la velocità degli attacchi corpo a corpo e aumenta la durata di barriera di forza quindi insomma sì da collezione sono da avere esteticamente sono carini anche se fanno le spalle un po piccoline se i perk vi interessano io se avete poche strane monete vi direi di no perché ci sono pezzi guanti migliori per il titano radar zuccone per il cacciatore ovviamente non posso farvelo dire perché sono col titano abbiamo causare danni inflitti con una granata riduce il tempo di recupero dei tuoi attacchi corpo a corpo e aumenta la super energia fornita dalle uccisioni di mostri l'oscurità e soprattutto sensore di scorta il radar è visibile quando si mira con le armi primarie questo è un buon casco io consiglio di prenderlo se avete strane monete per il cacciatore io ce l'ho e lo uso è molto carino perché con le armi primarie avrete la possibilità di vedere sempre il radar indipendentemente che la vostra arma abbia o meno quel perk per vedere il radar quindi è utile artigli di amcara per lo stregone anche qui c'è di meglio ci sono guanti migliori o comunque pezzi migliori esotici per lo stregone caricature per armi speciali aumenta velocità di ricarica per le armi speciali aumenta la velocità degli attacchi corpo a corpo e una da una carica aggiuntiva per le abilità speciali dei corpo a corpo degli stregoni si non sono male se non avete nulla se no io vi consiglio di attendere il prossimo pezzo per lo stregone diciamo che fra i tre va meglio il cacciatore con radar zuccone secondo la mia opinione arma ragazzi non c'è nulla da dire acquistare assolutamente suros regimen uno dei migliori fucili automatici prima di tutti i quanti buff nerf cazzi e mazzi di di bangi perché perché è molto buono già adesso anche se è stato nerfato tantissimo tutti i fucili automatici ma a breve con le nuove patch verranno ribaffati verranno riaumentate l'efficacia di fucili automatici tornerà in auge io trovate trovate una recensione di quest'arma di diverso tempo fa sulla mia playlist di recensione delle armi esotica andatevela a vedere comunque arma molto buona statistiche eccellenti con lo zoom spara più lentamente ma infligge danni maggiori ed è un perk molto carino se ce l'ha anche il fucile automatico di crota e inoltre sullo stregime la meta inferiore di ogni caricatore infligge danni maggiori e può ripristinare la salute ogni volta che colpisce il nemico grande grande grandissima arma guardatevi la mia recensione su qui sul canale e acquistate l'acquistate assolutamente cosa acquistare se avete poche strane monete giuste giuste l'arma senza ombra di dubbio questo è quanto vediamo se ce la faccio caricare questo video entro sera e io vi saluto come sempre vi auguro buona fortuna nei drop e qui dall'atollo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao guardiani